Dove vai in vacanza? Penso in Francia In Francia, a Parigi Infieme con? Con le amiche Fa tutto programmato? Sì Quanti giorni? Una settimana Una settimana In vacanza? Non penso Quest'anno niente? No, penso un soggiorno vicino, in montagna qui vicino Scelte, motivazioni? Problemi personali, familiari Penso che ne farò molto poco perché io sto facendo gli sconti Proprio per togliere un po' di roba perché un altro anno dovrò chiudere E allora cerco di smaltire il magazzino Per cui prenderò 14, 15 e 16 agosto, penso, non di più Lei andrà in vacanza quest'anno? No Ma cambia le abitudini? No, normalmente non vado, mi fermo a macerata e basta Non lo so ancora, sono in vacanza perché è finita la scuola, però non lo so ancora Vorrei andare qualche giorno al mare ma devo decidere ancora dove In vacanza quest'anno? Quest'anno partiremo a settembre per il viaggio nozio perché risposiamo E quindi per adesso non credo che faremo qualche escursione qui vicino Il viaggio dove? In Madagascar Faremo qualche sacrificio per partire il viaggio di nozio con lui Viene anche lui? Viene anche nostro figlio Tommaso Saluto amore Ho programmato come tutti gli altri anni una cosa normalissima quindi senza problemi Dove andrà? Mi faccio un giro in moto con un amico di una settimana a dieci giorni poi vado a casa di amici qui all'interno nell'appennino e poi andrò forse un'altro quattro giorni a Pozza di Fasa a casa sempre di un altro amico Quindi secondo le abitudini In vacanze sì secondo le abitudini sembra spendere normale A casa Mai? Diciamo questioni economiche ma anche questioni familiari diciamo così Quindi quest'anno penso a casa a meno che non esca fuori qualche invito all'ultimo momento Vediamo insomma dove siamo in attesa Se c'è qualche amico che offre un viaggio da qualche parte ne approfittiamo L'aspetto economico pesa? Sì sì notevolmente però uno si organizza diversamente approfitta insomma della propria città delle proprie possibilità e si va avanti semplicemente Vacanze? No 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 noi lavoriamo qui siamo di qui e vacanze in settembre In settembre? In settembre Io penso che vado in Inghilterra a Londra Vado spesso là Le vacanze quest'anno quando? Come? Dove? A Barcellona il 13 agosto In un bed and breakfast che ho prenotato? Ieri? Ieri Insieme? Insieme a un amico 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 Finanzata a casa giustamente Quindi agosto moglie mia non ti conosco Esatto agosto moglie mia non ti conosco forse i primi agosto facciamo Venezia una cosetta romantica poi dopo vediamo Non ci vado mai Non cambiano le abitudini? No Beh qualche gita sì mi piace ma come vacanze no perché noi stiamo in pensione stiamo sempre in vacanza andiamo un po' in giro qua e là però E dove le fa le gite? Eh per esempio siamo state a Vienna L'altra volta siamo state a Roma E ogni tanto secondo l'occasione che ci capita andiamo Poi qualcuno ce lo fa sul comune Quelle tutte le facciamo Perché dai gradi se no per noi va bene Non ci vado mai